Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la crisi di governo. La crisi di governo sta di fatto finendo. Già penso la prossima settimana dovrebbe nascere il governo Draghi e sarà un governo tecnico, presieduto da un tecnico, ma come tutti i governi tecnici un governo politico, profondamente politico, e al contempo un governo di unità nazionale, una sorta di unione sacra di quasi tutti i partiti del Parlamento a sostegno, presenti in Parlamento, a sostegno appunto dell'esecutivo a firma Draghi. Dunque tutti i parlamentari saranno chiamati a pronunciarsi e gran parte di questi parlamentari daranno il proprio consenso, appoggeranno il governo Draghi. Siamo dunque in presenza di due aspetti fondamentali in questo passaggio politico dell'Italia del XXI secolo. Sta per nascere un governo tecnico, l'ennesimo governo presunto da un tecnico, e sta nascendo un governo di unità nazionale, cosa che non si vedeva da un po' di tempo. Prendiamo in esame, separatamente, l'aspetto del governo tecnico e l'aspetto del governo di unità nazionale, per poi ovviamente collegarli alla fine di questo ragionamento. Per governo tecnico si intende il governo presieduto da un tecnico, ovvero da un uomo o da una donna, in questo caso ancora una volta un uomo, proveniente da un ambito professionale, proveniente appunto da un ambito lavorativo e non dunque da un ambito di partito, un uomo esterno ai partiti, un uomo esterno al solito gioco della politica. Draghi arriva dal mondo dell'economia, della finanza, delle banche, così come arrivava dal mondo dell'economia e delle finanze Monti, così come arrivava dal mondo dell'economia e della finanza Ciampi. Pertanto gli ultimi tre governi tecnici dell'Italia repubblicana sono stati presieduti da uomini di fatto derivanti dal mondo economico finanziario, dal mondo delle banche, dal mondo dell'economia. E tutto ciò ribadisce, ancora se ce ne fosse bisogno, il primato dell'economia rispetto anche alla vita politica. Il politico oggi ha più che mai a che fare con l'economia, lo ha sempre avuto, ma ci sono alcuni ancora che sostengono il primato della politica. Magari un tempo c'è stato questo primato della politica sull'economia, ma ormai vi è chiaramente in maniera indiscutibile il primato del mondo economico sulla politica e tra l'altro non tanto del mondo economico produttivo, ma del mondo economico appunto bancario finanziario. Governo tecnico, come tutti i governi tecnici però è un governo politico, un governo profondamente politico perché prenderà provvedimenti politici, ricordiamoci appunto ovviamente i provvedimenti monti per quanto concerne le pensioni o per quanto mi riguarda i tagli anche operati per quanto concerne la scuola, dunque le spese dedicate al mondo dell'istruzione. Questi tre primi ministri di governi tecnici hanno un'altra caratteristica in comune, sono stati Monti e Ciampi e Sarà, il governo Draghi, governi profondamente, sono stati governi profondamente europeisti e profondamente pro-euro. Ciampi è stato uno dei grandi artefici anche dell'Italia nell'euro, uno dei grandi sostenitori dell'Italia nell'euro sia come primo ministro sia poi come Presidente della Repubblica. Così Monti, grande sostenitore dell'Unione Europea, dell'euro e così Draghi che addirittura è stato chiaramente il Presidente della Banca Centrale Europea, intervenendo con delle manovre anche importanti durante alcune crisi della valuta europea, dell'euro. Pertanto non soltanto banchieri, non solo uomini di economia e di finanza, ma anche appunto grandi sostenitori dell'Unione Europea e dell'euro. Dunque governi tecnici europeisti, governi tecnici dell'euro, governi tecnici che si muovono dunque in un orizzonte più che mai europeo, atlantico, ma il termine atlantico forse ormai in questo caso è superato, atlantico si dà per scontato, ma europeo. Ma il governo dice, profondamente politici perché dovranno fare delle grandi manovre politiche, perché c'è da governare una crisi pandemica e perché c'è un problema sociale di povertà crescente, di disoccupazione, di impoverimento anche della classe media, perché c'è da scegliere quale via poi scegliere per quanto concerne, scegliere quale via appunto intraprendere, scegliere per quanto concerne i grandi investimenti, appunto non tutti a fondo perduto, un terzo a fondo perduto, ma due terze a restituire dell'Unione Europea. E qui arriviamo al secondo punto, perché abbiamo un governo di unità nazionale? Ma innanzitutto abbiamo un governo internazionale perché la politica è molto debole, perché il politico, rispetto a queste sfide anche economiche, globali e in ritardo, in ritardo di idee, in ritardo anche di organizzazione e poi perché la politica è screditata anche da anni di antipolitica e dunque la politica è in grande difficoltà. E soprattutto di fronte a un nome illustro come Draghi, nessuno, quasi nessuno, nell'arco parlamentare, ovviamente non nel paese, quasi nessuno, dunque solo la Meloni si è sottratta, riesce comunque a dire di no a Draghi e dunque Mattarella, come dicevamo nel scorso video, ha messo con le spalle al muro molti ovviamente leader di partito, molte segretari di partito, ma c'è un altro motivo, non è soltanto l'obbligo morale verso Mattarella o la paura di perdere consenso nella popolazione, tra la popolazione e nei cittadini, tra i cittadini, no, c'è qualcos'altro, è che ci sono soldi da spartire. Spartire Nintendo è mazzette, tangenti, no, 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 soldi da spartire in vari settori del paese, nel mondo dell'impresa, nel mondo appunto della produzione, negli investimenti, nell'energia, nell'innovazione digitale, nell'istruzione, nell'esercito, nell'agricoltura, nell'industria, tanti tanti soldi e rimanere fuori significa non contare nella distribuzione, negli investimenti, non dire la propria. I partiti non vogliono anche in questo caso non avere voci in capitolo e lasciare soltanto a Draghi. Draghi sarà fortissimo perché gode appunto di una fiducia molto ampia anche tra i cittadini, questi sondaggi, no Draghi, 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 Draghi ci salverà. Torno su questo aspetto dopo, l'Unione Sacra. No, sicuramente, no, sto parlando dell'Unione Sacra, ma nell'Unione Sacra ci tornerò, ma sicuramente i partiti vogliono poter dire a loro il PD, i propri interessi di partito, ma interessi di cittadini, di paese, la Lega, tutto il mondo imperatoriale, del Nord legato anche alla Lega, Forte Italia, quello di rientrare in gioco, gli interessi anche economici, gli interessi di quello di rappresentare. Chiaramente in grande difficoltà si trovano i Cinque Stelle, partito che è stato fortemente critico verso la Banca Centrale, fortemente critico verso l'Euro, così come era anche la Lega, però la Lega rappresenta molto di più un testo produttivo del centro-nord Italia che non può perdere comunque il treno dell'Unione Europea, perché le imprese del nord, centro-nord, sono dentro una dinamica europea, dunque Salvini non può sbattere la porta rispetto a quei finanziamenti. Dunque l'anti-europeismo di Salvini è andato in soffitta momentaneamente, di colpo anziché dire peste e corra della Banca Centrale, anziché essere l'amico di Orbán o di Marine Le Pen, diventa l'amico del momento di Draghi, ha fiducia in Draghi, vuole un'Unione Europea in cui si entrano i tutelati di interessi nazionali, ma vuole una voce autorevole, chiede appunto un condono fiscale per gli ultimi anni, chiede appunto una flat tax, chiede una serie di cose spera di ottenere dal governo Draghi. Difficile che Draghi conceda queste cose, però vedremo, vuole partecipare al tavolo per far pesare la voce, la voce del nord, la voce dell'Italia produttiva, quella che Salvini dice di rappresentare, che rappresenta, non lo so, ma non può stare fuori la Lega da una partita che ha a che fare con così tanti milioni, milioni, milioni di euro, così come non lo possono fare il PD, non lo può fare il PD, non lo può fare Forza Italia, non lo possono fare neanche i Cinque Stelle, ma per un altro motivo, perché sono con le spalle al muro, dicevo prima, un partito che era anti-europearista in molti elettori, anche in molti militanti, un partito che voleva quasi l'Italia Exit, Grillo voleva il referendum per l'Unione Europea, come sono lontani quei periodi, ma il partito è spaccato, Di Battista guida una fronda chiaramente anti-draghi, ma anche una fronda anti-piega governativa che ha preso chiaramente i Cinque Stelle, sono in caduta libera nei sondaggi, non possono andare alle elezioni e cercheranno ancora di far valere il proprio peso elettorale, il peso elettorale, cioè quanto ha conquistato le elezioni, nell'emiciclo appunto parlamentare, quello cercheranno di fare i Cinque Stelle, ma sono un partito, si dice, balcanizzato, un partito divisissimo, ma quel partito è obbligato a stare al governo, altrimenti evaporerebbe al sole, immediatamente evaporerebbe al sole. Ma poi c'è un'altra questione, c'è la questione appunto di quest'Unione Sacra intorno a un governo tecnico, allora arrivo qua, arrivo a queste conclusioni, Unione Sacra perché? Per il bene del paese, questo bene del paese, tutti vogliono fare il bene del paese, ma il paese che cos'è il paese? Il paese è molto diverso, il paese sono imprese, sono piccoli imprenditori, grandi imprenditori, grandi industrie, piccole industrie, ma poi sono lavoratori, operai, sono precari, flessibili, sono partite IVA, ma poi ci sono grandi commercianti, piccoli commercianti, disoccupati, marginali, sottoproletari, ci sono tante facce del paese, il paese è in classe sociale, lo dimentichiamo sempre, ci sono tante, tante sfaccettature sociali, tante sfaccettature di classe, cosa vuol dire fare l'interesse del paese? Di chi? Un governo che mette insieme tutti? Mette insieme tutti, le grandi banche, le grandi imprese, le piccole imprese, le medie imprese, mette insieme i sindacati, i lavoratori, i precari, i giovani, che si occupa di ecologia, ma di turismo, di innovazione tecnologica, che si occupa appunto di investimenti, di sanità, di scuola pubblica, ma anche di finanziare la scuola privata, di sanità pubblica, ma anche sanità privata, che va bene appunto per le forze armate, ma va bene anche per volontà tutti, il paese. A me quando si parla di paese, faccio vedere il paese, un brivido percorre tutto il mio corpo, perché il bene del paese diventa poi un'idea veramente mitica, diventa un costrutto appunto ideologico, sotto il quale spesso poi si nasconderanno anche tantissime politiche, invece per gli interessi dei suiti noti, non chiamiamoli poteri forti, chiamiamoli forti fortini, chiamiamolo come vogliamo, ma il paese. Certamente Draghi ha fatto anche una svolta negli anni e non è un liberista, non è un liberista convinto, non è sicuramente della scuola dei Chicago Boys e per alcuni aspetti ha degli elementi keynesiani moderati, dunque dovrà cercare di rendere il paese coeso, non sarà facile perché gli spinte particolari, gli interessi particolari sono tanti e c'è riso ancora una volta che puoi pagare il costo di questa crisi, siano le piccole partite IVA e i lavoratori dipendenti, i piccoli commercianti, c'è il grande rischio che poi si abbatta la spesa da rientrare, da ripagare su queste piccole parti del paese, staremo chiaramente a vedere, però unione sacra è veramente un po' la morte, la politica, tutti insieme, Zingaretti, Salvini, dunque quello che respinge i migranti e quello che li vorrebbe accogliere, a parte che il PD sull'accoglienza di migranti ha cambiato idea più volte ed è pro accoglienza di migranti quando il governo ce la lega, poi quando il governo e il PD spesso queste cose non avvengono, ma tutti dentro, da Leo, vediamo Leo molto scettica, vediamo, da Leo a Berlusconi, cioè lo psiconano, Grillo chiamava Berlusconi psiconano, gli dava del mafioso, dunque il governo Grillo e Berlusconi, Zingaretti e Salvini, magari anche Leo e poi l'Udc perché il mastellismo c'è sempre, mamma mia, e la responsabilità di chi sono? Tutti i draghi, draghi si assumerà sulle spalle appunto, la responsabilità di dire questo governo lo faccio io, draghi farà un'altra mossa molto interessante, secondo me ve la preannuncio, metterà molte donne nei ministri, molte donne chiaramente di alta competenza, per mettere ancora di più le spalle al muro il Parlamento, ma come? Mi propongo un governo fatto di alte personalità tra cui molte donne e voi me lo bocciate, ah non voglio dire l'abbonino che si era definita la donna contro la destra di Salvini e pronto a governarci insieme, tutto questo disorienta, disorienta soprattutto i ragazzi e le ragazze giovani che in questa politica credono molto poco, attenzione però, andiamo a draghi, il curriculum dei draghi ragazzi non si discute, non si discute, il curriculum c'è gli studi, dai Gesuiti, in questo tema abbiamo conosciuto tutto, abbiamo conosciuto i compagni di classe, di banco, l'amore, dove mangia i cannoli, i pasticcini che andava in bicicletta, si cambia la ruota da solo, giornalismo da veramente di serie Z, giornalismo da barzelletta, non i giornali popolari, Gente Oggi, Novella 2000, no, Corriere, Repubblica, i grandi giornali, va bene, della borghesia italiana, si è detto che hanno sguinzagliato giornalisti a fare che cosa? A raccontare le minimi parti, no, questo, la vita di draghi che è diventato un santo, santo, eroe, siamo un popolo come sempre che ha bisogno di santi, di eroi, di uomini della provvidenza, della patria, basta, maturiamo, maturiamo, e Monti deve salvare la patria, ora lo deve fare draghi, e Renzi era il top 40%, ma non parliamo poi del Berlusconi che era subito a camminare sulle acque, era il nuovo unto del Signore che aveva guidato l'Italia, basta, andiamo al celebre, chiaramente anche Mascellone, sempre uomini della provvidenza, dobbiamo affidarci a uomini forti, sono tutti uomini diversi quelli che vi ho elencato, ma questa idea dell'uomo forte la trovo veramente inquietante, dell'uomo della patria, l'uomo della provvidenza, l'uomo del destino, l'uomo appunto che camminando sulle acque ci porta alla salvezza, dai, liberiamoci, liberiamoci da questo anche feticismo del politico quando è vincente e poi lo abbandoniamo quando è perdente, è disgustoso dal punto di vista, maturiamo come cittadini e mettiamo al centro i grandi problemi, li discutiamo anche in maniera forte con le divisioni, destra, sinistra, centro, cattolici, socialismo riformista, ecologismo, liberale conservatore, torniamo alle grandi famiglie della politica e discutiamo su quell'idea di Europa, su quell'idea di città, su quell'idea di ambiente, la mia idea di ambiente è come quella di Salvini, l'idea dell'ENI è come quella di Greenpeace, di ambiente, l'idea di sviluppo delle banche, che è la stessa delle cooperative, sì, tutto uguale, sindacati, conflitti, tutto uguale, non può funzionare così la politica, non può funzionare così, chiudo, presenterà un governo di alto profilo e già molto po' l'altra gente, finalmente vanno al governo coloro che sanno fare le cose, ma non perché siamo contenti che vanno al governo quelli che sanno fare le cose e non li votiamo quando siamo in cabina elettorale, alcuni dicono che non li possiamo votare perché le liste sono blindate, non è proprio così, si può anche scegliere tra i partiti, tra le liste chi votare, invece noi votiamo i capi popolo, votiamo i leader e poi ci lamentiamo che non hanno delle competenze, allora possiamo già scegliere noi quelli che hanno le competenze, prima, prima riflessione, seconda riflessione, ma se vale il curriculum, perché non facciamo la democrazia del curriculum? mandiamo a Mattarella i curriculum e Mattarella con magari altri 4-5 consiglieri, come il consiglio notturno di Platone, dei saggi che leggono i curriculum, allora il miglior medico con il curriculum, ministro della sanità, il miglior giudice magistrato avvocato, ministro della giustizia, il miglior generale, ministro chiaramente della difesa, il miglior preside, ministro della scuola, va bene, il miglior ambientalista, il ministro dell'ambiente non conviene ragazzi, cercavo uno vicino alle aziende del cemento o del petrolio, perché comunque gli interessi naturali sono quelli, facciamo così, la democrazia curriculare, ministro dell'economia, chiaramente un bel banchiere, uno che sa, sa, ma sapere di quella disciplina vuol dire fare le politiche poi bene? Essere un tecnico, essere un politico la stessa cosa? Il tecnico è un buon politico? O non è meglio che il politico chiami dei tecnici, ma poi abbia una visione politica? Perché magari quell'idea di sviluppo di quell'economista non mi convince, perché magari quell'idea medica di quel medico non mi convince, perché magari quell'idea di sviluppo, o mettevo un'industria all'industria e magari quell'idea di industria non mi piace, perché è sbagliata, perché magari sfrutta il lavoro, parola che non si può sfruttare al lavoro, perché magari vuole i salari bassi, o magari vuole troppo alti, o magari ha delle politiche industriali che si fondano sul cemento, sull'inquinamento, oppure viceversa, troppo frecchettone, non lo so, ma valgono solo i curriculum. Allora sostituiamo la democrazia parlamentare, la trasformiamo in una bella democrazia curriculare. Partiamo, ogni cinque anni inviamo i curriculum, il Presidente della Repubblica che è scelto da un Parlamento, elegeva un Parlamento, il Parlamento fa le leggi, va bene, ma per scegliere i governanti mandiamo il curriculum, tutti mandano il curriculum, il Parlamento prende in esame il curriculum, o meglio ancora Mattarella e alcuni saggi scelti tra i parlamentari, o addirittura dalle cariche ancora migliori, andiamo a cercare i saggi nel Paese, leggono il curriculum, e a quel punto si forma il governo. Ogni cinque anni un governo curriculare, e così il Paese è stabile. Si governa cinque anni, dopo cinque anni altri governanti, 15-20 persone con il buon curriculum, e dopo cinque anni altre 15-20 persone con il buon curriculum, i mercati sono contenti, noi non ci agitiamo troppo, non ci preoccupiamo neanche di elaborare idee politiche, viviamo tranquilli, sfoghiamo la nostra voglia di politica in TikTok, su Instagram, allo stadio, su Facebook, non ci preoccupiamo neanche più di votare, che bella, una democrazia lineare, finalmente un Paese normale, in mano, in mano ai migliori, i migliori.